guarda oggi questo, questo oh le palle guardate ragazzi questo è un mio amico fermo, fermo lo schiaffo nel culo ti do ma per che aiuto mi è posseduto il culo un pezzo di erba tu sei invece un pezzo di culo oh il culo ma che culo a pochi anni va bene ma che è tua madre ho 30 anni ma 30 anni è un fico secco e tu un cavolo di quel culo zitto ma che c***o la gamba è stata secca facciamo un video della cara scusate se abbiamo iniziato così calmati ma che è pezzo di c***o ecco uno ho preso guarda ma non devo avanzare sto guardati perfetto è l'altro non è ludo ahhh è l'altro è l'altro è l'altro è l'altro è l'altro Time! Ollan fanno guardare. Egan a baby? Is this a boy? Meio Dago mori ceiligero. Ega sinfamote! P faut imponere. Megio, Avrendi. Rega, mi deixo di stiggo di me servirà. Egan a te borde? Egan a te borde? mi ha malato il culo sto buco vieni aiuta 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 questo il yoga personale lo dovete rompere no si invece sempre se uno dei miei se uno dei miei su ah 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 bravo vabbè bravo mettete mi piace se volete che faccio video con voi che dopo domani vieni ragazzi se buonasera se buonasera ho un qui in Grazie a tutti.